Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Mi voglio ragganciare un video precedente per riprendere il discorso sull'implementazione di un microservizio e in generale di un'architettura a microservizi. Per farlo ho cercato di realizzare l'architettura più semplice possibile. Questa qua che vedete rappresenta il disegno architetturale di quello che poi vedremo implementato tramite del codice. Quindi prima di partire con tutte le definizioni del caso voglio cercare di spiegarvi dal disegno cosa fanno i vari attori. Allora abbiamo sostanzialmente un web browser, cioè un browser normale che può essere Chrome o Safari o piuttosto che Firefox e poi Postman. Questo qui Postman per chi non lo conoscesse è un programma che appunto permette di effettuare delle chiamate a dell'API REST fondamentalmente. E quindi cosa facciamo? Tramite questi due potremo andare a fare delle GET o delle POST a Nginx tramite il protocollo HTTP. Questo appunto ci permetterà nella GET di recuperare dei dati che abbiamo inserito e con la POST di inserirli praticamente. Queste richieste verranno mandate a Nginx sulla porta 80. Nginx fondamentalmente è un reverse proxy che avremo installato su un container Docker e configurato nel modo appropriato come lo vedremo poi quando vi mostrerò il codice. Un reverse proxy che cos'è? Sostanzialmente un reverse proxy non è altro che un tipo di proxy che sostanzialmente recupera i contenuti per conto di un client e gli inoltra a uno o più server fondamentalmente. Quindi in questo caso si va a prendere la richiesta del browser o di Postman e la va a inoltrare in questo caso al secondo container che è quello che conterrà diciamo tutta la logica applicativa e il nostro programma che avremo scritto in questo caso in Python. E voglio fare anche notare che la porta è diversa proprio perché ho scelto io di configurarlo in questo modo. Io ho scelto la 6001 ma poteva essere la 7999. Stessa cosa per la porta verso Nginx. Sono tutti parametri che sono completamente configurabili. Quindi la richiesta viene inoltrata a un gateway apposta che ha il nome di UWSGI che a sua volta lo va a inoltrare l'applicativo che abbiamo in Flask e che è contenuto sempre all'interno di un altro container docker. Poi una volta che questa richiesta qui verrà ricevuta, digerita avverrà la risposta del caso che verrà visualizzata sempre o da web browser oppure direttamente da Postman. Ho voluto aggiungere anche delle varie definizioni. Qui nel primo punto abbiamo sostanzialmente il protocollo di comunicazione basato su HTTP sopra la quale è costruita l'architettura REST. Postman ne abbiamo già parlato fondamentalmente. Di docker container invece voglio soffermarmi un attimo. Uno perché logicamente per andare ad eseguire il codice che vi mostrerò avrete bisogno di andare a installare sul sito l'eseguibile per far girare un'istanza di docker sulla vostra macchina. Qui potete vedere, in questo caso ce l'ho nell'iconcina. In questo caso vi ho aperto l'interfaccia grafica. Vedete che ho già delle immagini installate. Non c'è nessun container che gira. Poi quando eseguiremo il codice vi farò vedere come questa schermata si andrà a riempire. Ora voglio soffermarmi un attimo invece su cosa si intende per docker container. Un docker container non è altro appunto che un contenitore che va a contenere tutti i file, tutti gli script, tutto il codice necessario per l'esecuzione di un determinato prodotto software. Questo naturalmente ha il vantaggio che se noi vogliamo trasferire il nostro codice, il nostro lavoro a un possibile cliente, lui non debba configurare una macchina apposta per permettere di ad esempio di far girare l'interprete python piuttosto che per far girare nginx. Ma appunto trasferendo il tutto in un container questo può astrarre dal sistema operativo che ospita quella macchina. L'importante naturalmente è che quella macchina abbia installato un'istanza di docker. Invece per andare a vedere quali sono i pro e contro di un'architettura basata sui microservizi io vi consiglio di andare a vedere il video che ho pubblicato in precedenza e che magari vi pubblico ancora qui in sovraimpressione sullo schermo in modo che possiate documentarvi meglio su possibili design architetturali, sul perché è stato ideato questo tipo di architettura e questo tipo di approccio allo sviluppo software. Per concludere vi parlo proprio in maniera molto rapida di Flask che non è altro che un micro framework per python dedicato allo sviluppo di API. Dopo che vi avrò mostrato il codice vi sarà molto più facile comprendere come funziona esattamente Flask e come interagisce con IOWSGI. Come sempre vi invito a commentarmi se avete bisogno di qualunque tipo di chiarimento su questi argomenti in modo che io posso adattarmi sempre di più per essere più chiaro e non dare per scontato nessun concetto. Ci vediamo nel prossimo video in cui andremo a vedere proprio direttamente il codice rappresentato in questa architettura che per ora è rappresentata solo come un disegno. Grazie mille a tutti per avermi seguito fin qui. Ciao a tutti da Valerio.